Buonasera, ben ritrovati in una nuova puntata di Angoli. Vi ricordo subito l'indirizzo mail per comunicare con la redazione del programma angoli-espansionetv.it, mi raccomando scriveteci. E adesso in questa prima parte della puntata abbiamo il piacere di avere ospite Laura Garavaglia, presidente della Casa della Poesia di Como, poetessa e organizzatrice anche del Festival Internazionale Europa Inversi, che quest'anno giunge alla sesta edizione. Sì, esattamente, quest'anno giunge alla sesta edizione. Noi ogni anno leghiamo il Festival, il tema della poesia, a dei temi particolari che possono essere appunto legati ad ambiti della cultura, per esempio come è stato per Poesie e Musica due anni fa, nell'edizione del 2014, oppure a temi di attualità, come per esempio l'anno scorso, dato che eravamo in clima di Expo, Poesie e Cibo, Poesie e Sostenibilità Ambientale. Quest'anno abbiamo pensato di legare il tema della poesia all'arte, per cui è poesia e arte, e in particolare alle arti figurative. Il rapporto tra parola e immagine è molto significativo ed è un legame che da sempre ha unito questi due linguaggi. Mi viene in mente, non lo so, il tema della poesia visiva, che nasce proprio dalle sperimentazioni artistiche, letterarie, che si sono compiute nell'ambito dell'anno avanguardia a partire dagli anni 60. E noi abbiamo voluto legare quest'anno il tema della poesia a quello dell'arte, proprio perché abbiamo voluto dare rilievo anche a molti giovani e meno giovani artisti che lavorano sul territorio comasco. Io partirei, dunque il Festival si terrà nei giorni di venerdì 29 e sabato 30 aprile, ma partirei dalla pomeriggio del 30 aprile, quando alla Villa del Grumello avremo il reading internazionale a cui partecipano quest'anno poeti provenienti da tutto il mondo, per cui dovremo cambiare il tema, non più Europa inversi, ma il mondo inversi, perché addirittura ci sarà un grande poeta che proviene dalla Nuova Zelanda, Michael Harlow, uno dagli Stati Uniti, William Wollack, dall'Iran, Saeedo Shangi, oltre ad altri poeti europei e a poeti italiani di fama, di chiara fama, come Franco Buffoni e Umberto Fiori. Dunque quest'anno appunto abbiamo legato, come ho detto, la poesia alle arti figurative e gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione sono innanzitutto i giovani allievi dell'Accademia Galli, che è una realtà molto forte sul nostro territorio, che abbiamo voluto coinvolgere, i quali hanno realizzato durante l'anno accademico delle opere di fotografia, di scultura e di pittura, ispirandosi alle poesie degli autori, dei poeti partecipanti. Poi avremo anche appunto altri artisti come Daniela Gatti, che è una scultrice, realizza questi gioielli a tema sia con le poesie sia anche con alcune opere del razionalismo architettonico comasco, per cui Pandan che riprendono, non lo so, la Casa del Fascio piuttosto che il Monumento ai Caduti del Sant'Elia. Poi ci sarà Alcide Gallani con le sue scatole poetiche, con diverse realizzazioni pittoriche e all'interno delle poesie inedite del giornalista e poeta e animatore culturale Pietro Berra. E poi avremo Mister Save the Wall, che è Pierpaolo Perretta, che anche è un artista molto attivo ed emergente sul territorio comasco e non solo, che realizza, lui si ispira alla street art e con diversi materiali realizza sculture e opere pittoriche. Diciamo che in un certo senso vogliono essere molto di rottura e di contestazione, spesso anche con tono molto ironico e dissacrante, nei confronti della realtà contemporanea. Abbiamo voluto quindi da una parte, come sempre, dare un respiro internazionale al festival, cercando di portare ad un pubblico sempre più numeroso il grande messaggio della poesia contemporanea, poesia viva, perché viene, come dire, recitata proprio dai poeti di fama mondiale che vengono un po' da tutto il mondo. E nello stesso tempo però dare spazio e dare risalto al nostro territorio, invitando appunto questi artisti, perché trovo che comunque Como e il territorio lariano abbiano delle potenzialità incredibili che possono essere proprio spese anche per far conoscere il fermento culturale che abbiamo nella nostra città e nel nostro territorio appunto. Abbiamo poi anche due poeti locali che sono molto attivi sul nostro territorio, che sono Basilio Luoni e Vito Trombetta, che scrivono in dialetto, perché io trovo che comunque la Casa della Poesia di Como è molto attenta anche a salvaguardare quelli che sono i dialetti locali, perché sono il nostro patrimonio culturale e linguistico e quindi è giusto che si dia spazio anche a questi. Peraltro in quelle giornate ci sarà come ogni anno attiva anche un'area che viene soprannominata un po' la bottega della poesia, che riporta a quella dimensione di Lime Labor, che deve essere l'attività poetica. Il protagonista sarà il poeta Mario Sant'Agostini, che offrirà proprio consigli. A chi si cimenta con questo tipo di scrittura? Certo, sì. Noi da sei anni ormai, appunto anche quest'anno sarà il sesto anno, diamo la possibilità a tutti coloro che partecipano, naturalmente gratuitamente, che scrivono versi, di poter sottoporre le loro poesie a Mario Sant'Agostini, il quale darà dei consigli, darà dei suggerimenti sul modo di scrivere. E devo dire che negli anni da questa bottega di poesia sono anche emersi dei talenti che hanno poi dei giovani, che hanno anche pubblicato. Noi siamo molto attenti alla poesia, soprattutto dei giovani. Devo dire un'altra cosa, quest'anno ci saranno anche i premiati del Premio Internazionale di Poesie Europa Inversi. Proprio durante la manifestazione potranno gli autori, che sono stati vincitori appunto delle varie sezioni, leggere insieme ai grandi poeti stranieri partecipanti. Il premio ha avuto veramente un successo che non ci aspettavamo. Hanno aderito poeti da tutta Italia, diciamo dal Friuli, Venezia Giulia, fino alla Sicilia, Sardegna. E non solo, ci sono arrivati testi e libri dalla Bosnia, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo. E soprattutto siamo stati molto contenti che la qualità delle poesie è veramente stata molto alta. Hanno partecipato tanti giovani, case editrici anche ormai affermate per quanto riguarda la pubblicazione di poesia. E abbiamo anche, daremo il premio alla carriera ad un importantissimo poeta portoghese, Nuno Giudice, che ha partecipato ed è veramente una delle voci più importanti della poesia portoghese oggi, conosciuto anche a livello internazionale. E poi avremo anche la mattina del 30, un incontro come sempre tutti gli anni con le scuole superiori. I ragazzi della Teresa Ciceri, del liceo musicale psicopedagogico e del liceo classico Volta, hanno preparato quelli dei ragazzi, gli allievi, diciamo, della Teresa Ciceri, delle musiche che sono state ispirate dalle poesie dei poeti partecipanti. I ragazzi invece del classico hanno fatto delle riscritture delle poesie in base alle emozioni che queste hanno suscitato in loro. I giovani rispondono sempre molto bene al linguaggio della poesia. Devo dire che siamo sempre molto contenti e anche i poeti che ospiti del festival di questo incontro rimangono sempre entusiasti. E invece, questa è la mattina appunto del sabato, la mattina del 29, sto andando a ritroso, ci sarà invece un incontro con l'università, all'università, scusate, degli studi dell'Insubri, al chiostro, l'aula magna del chiostro di Sant'Abbondio, con alcuni docenti dell'università dell'Insubri, il professor Serra Capizzano, la professoressa Barbara Pozzo e la professoressa Michela Prest, e poi ci saranno i poeti e gli studenti dell'università. E qui abbiamo riservato a questo spazio la possibilità ai docenti di parlare del rapporto che c'è, ad esempio Serra Capizzano parlerà del rapporto che c'è tra la matematica e le arti e la poesia. La professoressa Barbara Pozzo parlerà del diritto e le altre arti, come il linguaggio giuridico, quindi può sposarsi anche con il linguaggio della poesia o comunque con i linguaggi delle arti in generale, mentre la professoressa Michela Prest parlerà della bellezza nell'infinitamente piccolo, come anche nella fisica quantistica si possa ritrovare poesia. Perché noi consideriamo comunque importante dare questo messaggio che la cultura deve essere qualcosa di globale, non deve andare avanti a compartimenti stagni. Anzi, se non ricordo male, l'aspetto diciamo che avvicina la poesia, la numerologia, la simbologia caratterizza un po' la sua poesia. Esatto, sì, questo è proprio il linguaggio. E c'è da dire che la poesia, volendo, è proprio un'arte al quadrato, perché come forma di linguaggio racchiude il messaggio principale con il bello della composizione delle parole, come può essere una musica, oppure l'impatto che può avere anche un quadro, quindi un po' c'è questa verossimiglianza. Ma com'è che appunto ha riscontrato questa particolare capacità nei giovani a dar voce a quello che si prova e a darlo appunto con una voce particolare come quella poetica? Ma io trovo che i giovani rispondano benissimo al messaggio della poesia, proprio perché probabilmente hanno questa capacità di sentire, di provare emozioni e sentimenti che gli adulti per una serie di motivi perdono un po' nel tempo. Per cui c'è questa sorta di, mi permette la parola, verginità interiore che permette loro di riuscire a percepire il linguaggio della poesia in modo così profondo. E se guidati ovviamente anche da docenti intelligenti e bravi come sono quelli con cui ho il piacere di lavorare durante appunto l'anno scolastico, quando preparano queste letture, che si preparano su queste poesie, ecco se sono guidati in modo giusto dai docenti, devo dire che danno delle risposte veramente inaspettate. Io trovo che la poesia fa parte dei giovani e meno male perché le nuove leve sono poi quelle che dovranno portare avanti il grande messaggio della poesia, quindi sono i nuovi poeti del futuro a cui noi dobbiamo passare il testimone. Benissimo, allora per saperne qualcosa in più, l'appuntamento è il prossimo venerdì 29, il prossimo sabato 30 aprile, noi giustamente stiamo vedendo la locandina, poi online trovate anche il sito www.lacasadelapoesiadicomo.com dove trovate tutte le iniziative del festival ma anche altri appuntamenti che vanno avanti tutto l'anno. Io intanto Laura la ringrazio moltissimo per essere stata qua con noi questa sera, noi adesso ci dobbiamo invece separare per qualche istante di pubblicità ma torniamo tra poco con la seconda parte di Angoli, quindi restate con noi. Grazie.